Ciao a tutti, io mi chiamo Roman, il cognome è meglio evitarlo così non ci facciamo scoprire. Sono venuto a questo corso di Tennis Winner Game su Big End Experience che devo essere sincero è stato molto fruttuoso. Potrei dire una cosa che mi ha colpito molto di più, i smash. Cioè io in tutta la mia vita non ho mai smashato neanche una volta, in 6 anni che gioco non ho mai smashato una palla e invece oggi con questo Tennis Winner Game 3 di fila e per voglio dire 10 minuti di fila e sono entrati tutti quindi voglio dire qualcosa di buono è stato fatto. Poi per il resto l'area strategica io penso adesso oramai è fatta, quindi sono rimasto molto soddisfatto. Soddisfatto da 1 a 10? 11, no perché è stata davvero una bella esperienza, se potessi la rifarei, peccato che lavoro. Quindi con i giorni siamo un po' svantaggiati là perché se ne fareste due ad agosto ci farei due volte ad agosto, ecco. Ok, grazie Roma. Grazie a voi.